Signore e signori, bentrovati in questa nuova serie su F1 Manager 2023, è inutile fare teasing perché tanto avete già letto tutto e visto tutta la copertina, siamo in Red Bull e questa è la challenge in cui cerchiamo di portare Gabriele Mini al titolo mondiale. F1 Manager 2022 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 prima stagione, anche se la macchina non lo aiutava per carità, però ve l'ho detto con il Joe aveva un grandissimo potenziale e infatti è un 85 dopo due stagioni. Mentre in Alpine abbiamo Kevin Magnussen con Pierre Gasly anche per Gasly bella crescita avuto, e Verschior come collaudatore. Oh, guardate chi torna in us, c'è Mick Schumacher insieme a Liam Lawson e Dennis Moreau come collaudatore mentre in McLaren abbiamo Yuki Tsunoda e Lando Norris con Drucovich collaudatore. In Alfa Romeo abbiamo ancora Valtteri Bottas con Zane Maloney e Oliver Berman come collaudatore. In Alfa Tauri invece c'è Danielone Ricciardo, ancora Nick Devereese, quindi curioso il fatto che Ricciardo che ha sostituito Devereese qui è suo compagno di squadra e poi Dennis Hager come collaudatore. Comunque da questa schermata già vi fate un'idea anche di come crescono i giovani piloti dopo due stagioni e di quali possono essere i piloti più interessanti da ingaggiare. Ok, allora arrivano le sospensioni io le vado ad aggiornare di nuovo prima di produrle perché tanto è inutile produrle adesso che mancano ancora 30 giorni all'inizio del campionato quindi raffreddamento ottimizzato perché è quello di cui abbiamo più bisogno mettiamo sempre il ciclo vitale al minimo fondamentale questo completate anche le pance laterali attualmente siamo senza soldi per sviluppare qualcos'altro quindi dobbiamo attendere tanto cresciuto di due punti su riflessi il buon Gabriele Minì il programma addestramento della pit crew ora ripeto io non ricordo se il video di approfondimento sull'addestramento della pit crew esce prima o dopo questo video comunque se non è ancora uscito uscirà subito dopo però piccolo spoiler ci concentriamo sulla oddio sulla riduzione non ce n'è neanche bisogno in realtà perché abbiamo già una sosta abbastanza breve quindi rimaniamo su equilibrato per ora ecco se l'approfondimento sull'allenamento dei meccanici non è ancora uscito comunque è già uscito ma non l'avete ancora visto guardate i risultati che ci sono in basso a destra durata stimata della sosta 1,8 probabilità dell'errore bassissima 5,21 in quel video vi mostro come si arriva a questi risultati quindi se è già uscito e non l'avete ancora visto rimediate subito se invece non è ancora uscito uscirà entro credo 2-3 giorni al massimo quindi drizzate le antenne completato anche il sottoscocca e anche l'alettone posteriore ora però ok i soldi per produrre ce li abbiamo e dovremmo anche sviluppare qualcosina 17 giorni vediamo un attimo ok andiamo a sviluppare anche delle nuove pance laterali così come per le sospensioni andiamo a fare un doppio sviluppo prima di produrre mentre ho già iniziato a produrre il sottoscocca l'alettone posteriore e comunque le pance laterali di livello 2 che arriveranno per il Bahrain anche qui ragazzi subito dopo il video sull'allenamento della pit crew arriverà un video sullo sviluppo dell'auto un approfondimento sullo sviluppo dell'auto in cui vi spiegherò per bene la strategia che utilizzo per migliorare la vettura allora volevo informarti alcuni membri del consiglio hanno mostrato interesse senza partecipare al Gran Premio del Bahrain no 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 meglio non rischiare ok è arrivato il secondo aggiornamento delle sospensioni quindi le sospensioni di livello 3 adesso le andiamo a produrre probabilmente non faremo anzi togliamo le probabilmente non faremo in tempo per il Bahrain perché c'è tra un giorno si arriveranno comunque tra 12 giorni in Bahrain andremo senza sospensioni ma andiamo a vedere come è cambiata la situazione della nostra auto con gli aggiornamenti che abbiamo portato si ok lo vedete non mi devo togliere è un po' è migliorata rispetto a quella che abbiamo visto prima è un po' è migliorata devo dire si può ancora fare meglio comunque e finalmente inizia la stagione 2025 con questo primo Gran Premio a Sakir in Bahrain allora eccoci qui al sabato pronti per le qualifiche devo dirvi che i risultati delle prove libere non sono stati affatto incoraggianti sia per Gabriele Mini naturalmente ma ci sta ma per Silo Max Verstappen ha fatto fatica quindi la macchina non è ancora all'altezza probabilmente ad ogni modo io andrei a simulare soltanto il anzi no non andiamo a simulare nulla ce le facciamo le qualifiche ok allora usciamo per il giro lanciato ho fatto il il solito giochino per cercare di alzare la fiducia su Gabriele Mini oltre che su Max Verstappen ma su Mini non è andata benissimo perché ha fatto un paio di errori e quindi la sua fiducia è un po' calata comunque vediamo come se la cavano nel giro lanciato ok that's the checkered flag andiamo un po' arrivano primo e secondo davvero? però però ok signori sono riuscito a portare la fiducia di Gabriele Mini al massimo in questo Q2 quindi adesso proviamo ad uscire ho messo la gomma nuova sì sì in realtà è quella usata del Q1 ma dovrebbe bastare adesso dobbiamo farli uscire ok ci siamo via vediamo un po' con Verstappen che dà la scia a Mini anche se forse ragazzi l'ho un po' sottovalutati perché dovremmo farcela vediamo un po' non voglio portare sfiga ma eh trovo un po' di traffico Mini vediamo eh infatti ho parlato ho parlato ho visto che aveva trovato un po' di traffico nel secondo settore infatti il quattordicesimo rimane eliminato nel Q2 peccato peccato via usciamo con Max per l'ultimo tentativo ok parte il giro lanciato vediamo un po' no traffico pure lui porca miseria comunque prende la pole position e anche di tanto di mezzo secondo bravo Max bene così mi spiace tanto per Mini perché secondo me se non avesse beccato il traffico poteva almeno entrare nel Q3 peccato ok la strategia è la stessa per entrambi i piloti rossa rossa gialla la strategia a due soste e speriamo che sia quella giusta e ci siamo è tutto pronto per l'inizio di questa nuova stagione con la Red Bull di Max Verstappen in prima fila e Gabriele Mini che dovrà ricostruire la sua gara dal basso partendo dalla quattordicesima posizione guardate l'Aston Martin che è prima insieme alla Red Bull in prima fila con Ocon e poi c'è Strolli in seconda comunque andiamo andiamo a scoprire il Mini che non è partito bene è già quindicesimo vediamo in curva 1 no no perde la posizione sull'Aston addirittura non benissimo ma perché c'è un pilota senza nome nella leaderboard con la Haas chi è l'innominato chi c'era insieme all'Aston Mick Schumacher se non sbaglio perché non ha il nome comunque se ne vanno i primi due giri con mi ha scordato di mettere su un neutro con Verstappen primo che ha quasi tirato fuori dal DRS Russell mentre mentre il Mini sta facendo fatica in quindicesima adesso scende anche in sedicesima superato da Perez ma devo dire la Mercedes veramente male in questo inizio è una tredicesima e quindicesima con Sainz e Perez adesso Mini si riprende la posizione su Perez paura che sarà veramente durissima con Mini quest'anno intanto Con supera Verstappen poi Verstappen se la riprende Mini invece se la sta giocando con Sergio Perez che comunque è un osso duro però sono rimasti staccati rispetto agli altri andiamo a seguirla la sosta in box si ferma anche Perez davanti a lui vediamo se i nostri meccanici riescono a fare la differenza pit stop velocissimo 1-8 sì sì esce davanti a Perez bene 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 via riparte con gomma rossa pit stop più veloce della gara finora adesso portiamola in temperatura poi abbassiamo un attimo il ritmo mentre Verstappen ma si è fermato Verstappen sì sì si è fermato ecco perché è sceso di posizione ok si ferma un altro po' di gente è Brele Mini comunque è diciassettesimo adesso recupera la sedicesima perché si è fermato Ricciardo mentre Verstappen se la sta giocando con Ocon e Russell un terzetto in fuga per la vittoria con Ocon che adesso prova ad allungare che se la regia stanno facendo loro Ocon credo la stessa di Verstappen mentre Russell è su gomma gialla con cui è partito quindi adesso si fermerà oh Mini intanto sorpasso all'osano andiamo a vedere il sorpasso di Mini sorrettilino con DRS vabbè niente di particolare poi staccata prende l'interno anche la mescola più morbida che lo aiuta bravo comunque bravo dai va bene allora sta arrivando i box Gabriele Mini per la seconda sosta entrerà in questo giro anche Verstappen che comunque è parecchio avanti anzi quasi lo sta doppiando a momenti bene sosta veloce 1.890 perfetto vediamo dove rientra Mini scende in diciottesima ok scende in diciottesima ma sicuramente alcuni piloti li dovranno ancora fermarsi anzi praticamente tutti a parte Castillo devono ancora fermarsi si ferma anche Verstappen andiamo a seguire anche il suo di pit stop bene bene molto rapido 1.875 che forse è il più veloce della gara non lo so che è successo che è successo incidente tra più auto andiamo a vedere un Alpine una Alfa Tauri questo è buono per Gabriele Mini che magari guadagna qualcosa vediamo se sono fatti male no beh si forse qualcosa perdono magari dovranno fermarsi tra l'altro Pier Gasly che era davanti a Gabriele Mini aveva già fatto la sosta quindi vediamo se riusciamo a prendere la posizione almeno sul francese si si perché Gasly becca anche la penalità bene così raccomando 10 giri al termine un testa coda di De Vries che però è già ultimo quindi non ci riguarda facciamo spingere un po' Verstappen anche se direi che Verstappen si è messo in testa con 13 secondi di vantaggio suo con può stare abbastanza tranquillo ma c'è un po' di benzina in eccesso quindi bruciamola e Gabriele Mini alla fine sta facendo la sua nesta gara e non gli si può chiedere molto di più però si sta facendo valere lì in mezzo al gruppo occhio con la Benza per Verstappen un po' esagerato forse in conservativa ok vediamo vediamo adesso Mini sta attaccando Ricciardo ma Ricciardo no Ricciardo si è fermato a gomma rossa nuova c'è Albon che è un po' con le pezze però è lontano credo eh sì 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 inizia l'ultimo giro quindi Mini piuttosto deve difendersi ma tanto Casdia è lontano e comunque è penalizzato quindi direi che Mini si è guadagnato una tredicesima posizione magari non succede qualcosa c'è una bandiera gialla no ok l'importante è che non siamo noi un bloccaggio di Schumacher vabbè non ci riguarda neanche questo tra l'altro per Mini inizia adesso l'ultimo giro proviamo a farlo spingere mentre Verstappen è appena arrivato quasi doppio a Mini e va a vincere questo primo Gran Premio andiamo su Mini no però Mini è lontano è a 6 secondi ormai da Richard quindi non ha neanche senso farlo spingere e rischiare di sbagliare si va a prendere questa tredicesima posizione che è per le Mini che ne guadagna una rispetto a quella di partenza va bene dai va bene va benino va benino speravo un po' meglio però va bene e intanto Max Verstappen si gode il podio insieme ai due Aston Martin con Estroll e forse sarà l'Aston Martin la scuderia da temere quest'anno però la strategia di box paga decisamente perché i due pit stop più veloci sono quelli Red Bull intanto Verstappen così giusto per gradire sale a 94 e Gabriele Mi sale a 70 questo è importante ci interessa soprattutto la sua digressione naturalmente forse non ce la facciamo neanche per no sì una sospensione nuova per per Jedda la portiamo e arriviamo a Jedda per la seconda gara di questa stagione no non era partita la registrazione vabbè niente ragazzi mi sono reso conto che non era partita la registrazione me ne sono reso conto soltanto adesso non mi siete persi anche comunque perché nel Q1 nonostante avessi portato la fiducia di Mini al massimo è arrivato si è qualificato ventesimo quindi è fuori dal Q2 adesso ho stimolato con Max che guadagna comunque la pole position quindi partiremo primo e ultimo e anche qui farei la stessa strategia con entrambi veniamo un po' si parte con una Red Bull aprire lo schieramento e una chiuderlo in fondo via parte bene Verstappen ma andiamo su Mini che dovrà guadagnare subito delle posizioni vediamo le gomme tanti piloti in gomma gialla faranno tutti una sosta suppongo però chiaramente chi monta gomma gialla all'inizio andrà un po' più lungo capisco che il nome di Schumacher non compaglia in leaderboard ma vabbè intanto Mini ha superato Maloney bene bene mentre davanti Russell e Verstappen sono in fuga mi sa che Mini dovremmo fermarlo prima del del giro prestabilito perché la gomma la sta consumando più velocemente del previsto eh sì io lo farei fermare Gabriele facciamo fermare subito montiamo la hard tempo di sosta 1.8 rientra chiaramente in ultima posizione ma adesso dovranno fermarsi gli altri adesso devi spingere Mini adesso devi spingere un po' intanto per portare la gomma in temperatura adesso si fermerà anche Max davanti intanto Max fa il pit stop e scivola in ottava posizione adesso attendiamo che inizino a fermarsi gli altri si ferma adesso Schumacher quindi Mini si riprende la posizione anzi si prende la posizione perché non era davanti all'ass di Schumacher era davanti a Malone che adesso dovrà fermarsi tra poco il problema è che gli altri si stanno fermando ma Mini non recupera ragazzi c'è gente che ha già fatto la sosta ma Mini resta dietro adesso si ferma Ricciardo che monta gomma rossa addirittura eh sì forse sì mentre devo dire che attenzione incidente l'uscita della curva 5 l'Oson va bene mi sta bene sì adesso per Stappen si lancia l'inseguimento di George Russell che non ho capito che se la gira sta facendo però forse arriva fino in fondo con quella gomma gialla c'è stato un brutto incidente vediamo un po' chi coinvolge questo incidente c'è un Alpine un Alfa Romeo eh alla fine l'Alpine solo l'Alpine la forza di portato danni anche Carlos Sainz vediamo un po' penalità per Gasly Gabriele Minini adesso è salito in tredicesima anche se vedo che è tampinato da Carlos Sainz che in gomma rossa sicuramente si riprenderà la posizione Max Verstappen sta faticando a recuperare a recuperare Russell voglio spingere un po' Max niente Minini intanto è stato superato da diversi piloti adesso tutti quelli che si erano fermati hanno messo gomma rossa lo hanno superato quindi scende in sedicesima dai che Max ha preso il DRS di Russell dai però adesso deve interessare un attimo Minini che sta un po' soffrendo lì in sedicesima niente lo supera pure Albon scende in diciassettesima mamma mia sarà difficile sta challenge mamma mia tanto Verstappen si è preso la leadership e ha dato 7 secondi anzi 8 a Russell inizia l'ultimo giro sta spingendo come un dannato rimaniamo su Minini che non so se riuscirà realisticamente a prendere non penso spingi ma non penso che riuscirà a prendere De Vries che gomma ha De Vries no non credo andiamo un po' c'è anche un bel trenino lì davanti ma non credo che arriverà però attenzione perché l'ultimo giro inizia adesso per per Minini però siamo fuori dal DRS provo a spingere provo a spingere si sta avvicinando dai 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 grande ha vinto intanto Max mentre Minis è acquadato a questo trenino vediamo se riusciamo ad attaccare in extremis almeno De Vries almeno De Vries vai 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 dai tutto dai tutto purtroppo non abbiamo molto altro da dare qui è tutto finito benzina finita è airs finito gomme rimasta veramente pagarobba mi sa che niente da fare purtroppo niente da fare P17 per Minini perché sì è comunque un buon risultato considerando che partiva a ventesimo però ecco nell'arco di due secondi ci sono Albon Ricciardo De Vries poteva ambire forse al quattordicesimo quindicesimo posto è comunque un po' poco con questa macchina però io non mi faccio prendere da allarmismi perché me l'aspettavo un inizio così difficile io spero solo che il consiglio ci dia il tempo di farlo crescere sto ragazzo nel frattempo chiaramente non dovremo sbagliare un colpo con Max Verstappen e per ora devo dire che Max sta facendo il suo sperando che questo basti a tenere buono il consiglio perché altrimenti rischiamo un altro esonero a metà stagione come con l'Alfa comunque c'è di buono che se non altro l'Aston Martin non fa benissimo in questa gara perde un po' di punti in classifica costruttori che vede Aston Martin 59 Ferrari 52 Max Verstappen 51 intanto arrivano le nuove sospensioni andiamo a sviluppare anche un bel sottoscocca anzi prima di svilupparlo aspettate fatemi vedere un attimo con le nuove sospensioni come siamo messi rispetto alla griglia allora ok raffreddamento l'abbiamo migliorato parecchio dobbiamo migliorare sulla velocità massima e sulla sterzata bassa di velocità io adesso mi concentrerei sulla velocità massima però andrei a sviluppare un bel sottoscocca oddio sottoscocca per la velocità massima manca elettone posteriore forse andrei sul sottoscocca però e ci mettiamo tutte le ore che abbiamo a disposizione oddio sapete che forse è meglio l'elettone posteriore però no in realtà è meglio il sottoscocca quindi rimaniamo sul sottoscocca prestazione ad alta velocità andiamo a fare il ciclo vitale minimo chiamo di massimizzare l'aumento di velocità massima quindi così mi aumenta pure la sterzata a basse velocità ok io farei così ingegneri chiaramente il massimo intensivo e a 4 milioni in fumo olè e poi per il resto iniziamo a mettere da parte un po' di soldi perché la prossima spesa che voglio fare a questo punto ormai nel prossimo video è andare a sistemare un po' le strutture perché beh sì 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 qui bisogna spendere dei soldi assolutamente anzi io la sala del consiglio la andrei a sistemare subito perché questa influisce pure sulla fiducia quindi questa la aggiorniamo subito e c'è anche il centro meteorologico da ristrutturare mamma mia è un disastro ragazzi è un disastro qui questa influenza morale dei piloti allora facciamo sistemiamo il centro meteorologico intanto e forse pure la sala dei cimeli almeno i piloti hanno un po' più di morale no questo aspettiamo lo aggiorniamo direttamente ma adesso non abbiamo i fondi allora uno dei nostri sponsor ha richiesto una variazione dell'attuale contratto nello specifico vorrebbero introdurre ulteriori obblighi ma anche no me sa cioè qual è il mio vantaggio ma no direi anche no cioè non vedo proprio il motivo non c'è nessun benefit allora intanto sono arrivate le nuove punch laterali di livello 3 le andiamo a montare subito e a questo punto minchia ragazzi ma sulla sterzata a bassa velocità siamo diventati dodicesimi ecco la red bull sembra facile sulla carta perché dici vabbè inizi con la scudere più forte di tutte è facilissimo però in realtà no perché sul lungo termine tu devi rimanere il più forte di tutti e quando parti che sei già il più forte puoi solo peggiorare quella situazione non puoi migliorarla quindi paradossalmente una carriera in red bull io non pensavo ma forse non è così semplice sul lungo periodo intendo è chiaro che se fate una stagione o due vincete easy però sul lungo periodo diventa difficile perché dovete rimanere sempre al top non è per niente facile al di là del fatto che io ho preso mini avete visto che a livello di prestazioni le altre scudere stanno venendo su in maniera importante cioè realisticamente adesso siamo la terza forza forse del campionato a livello di potenza di macchina quindi non è semplice nonostante avete visto comunque ho sviluppato le strutture e tutto devo dire che quest'anno F1 Manager 2020 è veramente tanto più difficile del predecessore sotto tutti gli aspetti comunque per questo primo episodio direi che ci fermiamo qui alla fine non so neanche quanto è venuto lungo beh ho detto che forse erano episodi più brevi ma non so effettivamente poi una volta montato quanto sarà la durata però fatemi sapere se vi piace questo format un po' più ristretto a livello di numero di gare oggi ne abbiamo fatti solo due perché c'era tutta l'intro abbiamo sistemato tutta una serie di cose dal prossimo video ne faremo magari tre però fatemi sapere un po' che ne pensate ovviamente ragazzi pollicione in su per supportare questa nuova serie se vi piace fatemi sapere nei commenti se apprezzate questo tipo di scelta questo tipo di contenuto in cui dobbiamo vincere il mondiale con un pilota e oggettivamente rendere cose molto molto complicate ma non perché sia scarso semplicemente perché è molto molto giovane in una scuderia dove bisogna vincere subito io vi ringrazio per aver visto il video se siete nuovi naturalmente iscrivetevi attivate la campanellina perché non solo è iniziata questa nuova serie quindi arriveranno nuovi episodi ma come vi ho detto siamo nel bel mezzo di una miniserie di approfondimenti sul gioco in cui andiamo a vedere diversi aspetti dello sviluppo quindi è appena arrivato sta per arrivare il video sull'allenamento da pit crew settimana prossima arriva lo sviluppo della macchina l'approfondimento sullo sviluppo della macchina e con questa serie ci rivediamo sabato prossimo ore 12 come sempre grazie a tutti per essere stati con me ci vediamo appunto tra una settimana con questa serie ma in settimana con altri video assolutamente da non perdere ciao ciao